Icea, Elkocert, queste sono alcune delle certificazioni che andremo a vedere in questo video. Soldati, soldatiste, ciao! Benvenuti in questo nuovissimo video, finalmente prosegue la saga delle lezioni, non mi piace chiamarle lezioni, ma farò una playlist, non so ancora come chiamarla, magari posso chiamarla lezioni di Inci, però sempre tra virgolette perché io non sono un professore e non do lezioni. Nel primo episodio abbiamo parlato di Inci, nel secondo invece la differenza tra vegetale, naturale e biologico, e vi metto qui sopra tutto e anche il termine vegano, cosa significa, metto sempre qui sotto, e vi avevo chiesto se vi faceva piacere un video sulle certificazioni e quindi eccolo qui, entra di diritto anche lui nella playlist che vi metto sempre qui sopra. In primis, cosa sono le certificazioni? Ragazzi, dietro ad un prodotto troveremo delle iconcine con delle sigle, certificato, Icea, certificato, Eccocert, adesso li andiamo a vedere. Ma cosa significano? Vuol dire che quel prodotto è stato certificato, ovviamente, ed ogni certificazione significa qualcosa. Ed è qui che questo video ha senso di esistere. Andiamo a vedere tutte le certificazioni, cosa significano e cosa c'è dietro. Quindi quando vedete scritto Icea, adesso andiamo a vedere cosa significa. Innanzitutto le certificazioni sono le certificazioni italiane, le certificazioni europee e le certificazioni internazionali. Oggi in questo video andremo a vedere le certificazioni italiane, europee, magari vi nomino le più importanti internazionali, ma voglio sfocalizzarmi su quelle italiane e quelle europee, visto che comunque sono le più usate oppure le più viste e un'altra internazionale che è sempre la più usata. Tra le certificazioni italiane più usate ovviamente c'è l'Icea. L'Icea ovviamente è un acronimo che sto ripetendo da tre ore, ma non riesco a ripeterlo. Allora, I, istituzione, C per la certificazione, E, etica e ambientale. Ok, ce l'ho fatta! Le certificazioni Icea si dividono in due tipi, quella eco-bio e quella per la cosmesi naturale. Quella eco-bio, come abbiamo già visto nel video precedente, ciò significa che le materie prime vegetali devono derivare da agricoltura biologica e quindi sotto l'inci ci sono i due asterischi con scritto da agricoltura biologica e chiaramente non deve avere impatto ambientale, quindi eco-bio, ma in realtà la certificazione, poi ci arriviamo, per cosmetico naturale non deve necessariamente derivare da agricoltura biologica. Questo significa sempre secondo la certificazione. La certificazione, poi, si impegna anche a dei valori, tra virgolette possiamo chiamarli, che è quello di minimizzare la tossicità per l'uomo, l'impatto ambientale, ovviamente, che non deve inquinare, e per di più la dermocompatibilità. Ovviamente, si occupa anche delle pelli sensibili, che il prodotto non deve irritare la pelle umana e le pelli allergiche. Il prodotto non deve contenere, poi, ovviamente, materie prime dannose per l'uomo e per l'animale. Quindi, ragazzi, la certificazione ICEA è praticamente tutto quello che dico io, tutto quello che ha bisogno un prodotto. Quando un prodotto è certificato ICEA, voi, ad occhi chiusi, prendetelo. Perché sapete che, effettivamente, è tutto quello che la certificazione prevede, ovviamente. Ed è stesso l'ICEA in Italia che rilascia anche il certificato e la certificazione di cruelty free, ovviamente non testato sugli animali. Quando vedete cruelty free, è rilasciato sempre da ICEA. Quindi, ragazzi, come vedete, l'ICEA è il certificato più importante italiano. Un altro certificato che abbiamo in Italia è il CCPRB, Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Poi ce ne sono altri che, in realtà, sono meno conosciuti. E se avete trovato altri certificati italiani, fatelo sapere qui sotto. Per il resto, c'è il vegano OK, che, appunto, non utilizzare prodotti di derivazione animale oppure derivanti da animali e quindi non maltrattare, appunto, l'animale in fase di produzione. Andiamo, quindi, direttamente con le certificazioni europee, per non rendere questo video troppo, troppo, veramente, trolisso. E quella europea più famosa è, chiaramente, l'EcoCert, che credo e spero che voi abbiate sentito. Per essere rilasciato il certificato EcoCert, non deve essere in alcun modo maltrattato l'animale per la produzione, appunto, del prodotto. Deve avere il 95% di ingredienti naturali e nel prodotto finito, invece, il 10% degli ingredienti biologici. Per poi avere, appunto, sempre il certificato EcoCert, bisogna usare ingredienti rinnovabili che, appunto, hanno poco impatto ambientale, anche a zero impatto ambientale, e sono rinnovabili. Quindi non si può usare petrolati derivanti di petrolio, profumi artificiali sintetici e tutte le sostanze, appunto, sintetiche. Quindi, ovviamente, parabeni, PEG, petrolati, eccetera, eccetera. E questo vale per EcoCert Organic. Perché EcoCert si divide in EcoCert Organic e EcoCert Natural. O Natural. Organic, appunto, il 95% degli ingredienti naturali, il 10% biologici. Ok. Mentre Netro al 50% deve essere di origine vegetale, mentre il soltanto 5% degli ingredienti da provenienza biologica. Quindi, chiaramente, l'EcoCert Organic dà più certezze, ecco. Poi ce ne sono altre, una tedesca e una inglese. Poi ce ne sta un'altra francese, che si chiama Cosme Bio. Però quella fa sempre riferimento ad EcoCert. Quindi, quando vedete un prodotto scritto Cosme Bio, è sempre passato dalla superficie di EcoCert. Quindi EcoCert, praticamente, è il più famoso e importante in Europa e soprattutto in Francia. In Germania trovate la BDIH, che sono praticamente delle associazioni che sono nate, sempre per il controllo biologico, che sono nate e poi hanno potuto poi mettere anche delle certificazioni. Quindi, quando vedete questi BDIH e la Soil Associations, In Gran Bretagna sono delle associazioni che poi hanno potuto mettere un certificato. E per avere questo certificato bisogna sempre non maltrattare gli animali e seguire degli standard che sono sempre poi a discrezione delle associazioni. Infine, andiamo con le certificazioni internazionali, che a mio dire sono quelle che ho trovato di più, che sono la Cosmos, Natru e Ecolabel. Andiamo subito con Cosmos, che non è altro un'unione di tutte quelle europee. Quelle europee, quelle europee che vi ho detto prima, si sono confrontate e unite creando una certificazione internazionale. Chiaramente, la certificazione internazionale la potete trovare anche in Italia, perché in Italia, cioè, viviamo nell'internazione, no? Quindi la potete trovare anche in Italia, la Cosmos. e la Cosmos stabilisce che bisogna lavorare i prodotti con la chimica verde e quindi non usare tutti i prodotti, appunto, sintetici. Anche in Cosmos, chiaramente, ci sono dei principi da rispettare. In primis, l'acqua addirittura. L'acqua non deve contenere batteri, oppure, appunto, deve essere pura, acqua pura, senza batteri e senza sostanze che possono danneggiare sia l'uomo e sia successivamente anche la natura. Gli ingredienti utilizzati devono essere imprescindibilmente di origine naturale e, ovviamente, i prodotti non possono essere derivati dalla mutilazione degli animali e, come ho detto prima, bisogna usare la chimica verde. Come anche, con certa anche Cosmos, si divide in Cosmos Natural e Cosmos Organic. Cosmos Natural prevede il 98% di origine naturale e anche l'obbligo di segnare la percentuale di origine naturale presente nel prodotto. Mentre per la Cosmos Organic ci deve essere il 98% di prodotti naturali, di materie prime naturali all'interno, mentre il 10% per i prodotti a risciacquo di ingredienti biologici, mentre di tutti gli altri prodotti deve contenere il 20% dei materie prime biologiche. Sto impazzendo. Cosmos in più, come mio solito pensare, è il fatto che anche il packaging deve essere rinnovabile e non possono essere usate plastiche o PVC, insomma, cose che inquinano l'ambiente. Proseguiamo con, invece, Natriu. Natriu, invece, è un altro certificato dato dall'Unione di Germania, Svizzera e Italia, il CCPB italiano, e praticamente ammette, già fa degli, diciamo, fa già delle concessioni. Ecco, perché? Perché accetta i prodotti di origine animale anche, però non da vertebrati morti, però comunque accetta origini animali. Accetta anche le sostanze natural identiche, praticamente cosa sono le auto identiche? Sono dei prodotti che non possiamo trovare in natura e quindi te li crei. Te li crei facendo una sorta di, usando dell'ara chimica, te li crei e quindi possono, sono ammessi in questa certificazione. In più, sono ammessi anche, sono ammessi anche le sostanze naturali che poi possono essere modificate sempre biologicamente, quindi non accetta gli OGM, ma con processi chimici biologici, può, con la chimica verde, possono essere modificati, quindi accetta anche le sostanze naturali modificate. Natriu non si divide in organic e natural, ma si divide in stelle. Allora, una stella quando i prodotti ammessi che ho detto prima sono quelli e quindi ammette quei prodotti e hai una stella. Quando hai quei prodotti ammessi, quindi già che ti fa il piacere, ti dà una stella e quindi ti fa pesare il fatto che comunque hai una stella in Natriu e quando vedete una stella è perché ha dei prodotti che possono essere animali oppure, appunto, come ho detto prima. Due stelle quando i prodotti non hanno, non sono prodotti ammessi, ma sono prodotti naturali e devono essere il 70% di agricoltura biologica invece, mentre tre stelle devono praticamente essere quasi del tutto il 95% di agricoltura biologica e quindi meglio, appunto, fidarsi del Natriu tre stelle o due. Una stella è un po' come dire non fidiamoci molto. E chiudiamo in bellezza con Ecolabel. Questo video è diventato infinito, non finisce più. Ecolabel, invece, non gli ne frega un cazzo di quello che hanno detto le precedenti certificazioni da fino adesso citate. perché Ecolabel cosa dice? Dice che i prodotti, le materie prime che vengono usate non devono ammazzare dopo, come il mio principio, non devono ammazzare dopo l'ambiente naturale, soprattutto acquatico, quindi i pesci. Ciò significa che Ecolabel ammette dei prodotti tossici tossici, oddio, tossici, ammette dei prodotti dannosi magari per la pelle, ma l'importante è che siano poi biodegradabili in acqua e quindi che non vanno ad uccidere i microorganismi acquatici, facendola in breve. Ecco, Ecolabel. E questo è Ecolabel. Nel frattempo la macchinetta mi aveva abbandonato. Quindi, se siete arrivati fino a qui e avete capito qualcosa, scrivetemi hashtag soldati certificati, hashtag soldati certificati, lo metto qui sotto. Spero che questo video vi sia stato utile ed entra di diritto nella playlist, non so di quanto tempo è, ma ho visto che ho girato per mezz'ora, quindi, oddio, spero di tagliarlo il più breve possibile. Noi ci vediamo nel prossimo video, spero che vi sia piaciuto e mi raccomando fatemi altre richieste qui sotto perché il video si sviluppa nei commenti e soprattutto vi aspetto sul gruppo Facebook gli amici di Warringale e chiaramente su Instagram dove faccio le first impression dei prodotti che compro e quindi vi aspetto anche lì sempre Warringale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye! Sì, per cosme poi c'è consorzio di certificazione per cazzo associazione a Grazie a tutti.